Musica Musica Ragazze e ragazzi, eccoci qua su Persona 5 Strikers. Dunque, episodio scorso abbiamo indagato in questa cittadina scoprendo al 99% per me chi è il monarca, anche se effettivamente non l'abbiamo ancora visto, non abbiamo ancora visto la sua ombra. E ora siamo pronti a entrare nella sua prigione. Però prima, aspetta che avevo preso della roba io. Musica Ok, questo mi pare, anche la benda. Cos'è l'effetto più critico su basso? Riproduzione 1 a 20 di una spada famosa per aver tagliato un candelabro. Taglia il candelabro. Aumenta il critico. Forse le probabilità di critico non saprei. Comunque, io mi tengo questo, aumenta gli SP di 20. Poi... Lui gli avevo... Ah, lui non aveva nessuno, ok. Allora gli mettiamo magari più vita. Ok, magari a Morgana. Gli mettiamo... Questo, ho chiaramente la gita. Ok, e poi l'ultimo... Sofia. Stivali alti. E poi mettiamo di questo. Va bene. Avevo della roba, forse... Archele delle blanche abbiamo. Ok, va bene. Allora. Trovo. Allora, cucina! Questo fatto di ghiutan... Manca la carota. Manca la carota. Che fa? Pistina 40 HP agli alleati. Però adesso possiamo... No, non possiamo fare curry. Non possiamo fare niente. Ci manca il maiale... E il reso. Porca vacca. Vabbè. Comunque. Vediamo il negozio, anche se non ho... Non ho soldi. Ci sono nuove cose. Sì. Ci sono delle nuove cose. E adesso risparmiamo, va. Non guardo il resto, perché è giusto per vedere... Che vende. Volevo solo vedere se c'è la nuova roba. Allora io direi... Infiltriamoci, no? Allora, andiamo! Beh, figurati se non c'era la sua statua. Eccolo lì. Allora, cambia squadra. Fammi vedere. Io metterei... Allora... Fammi togliere... Ok. E Morgana io lo lascerei sempre, però... Però no, dai, possiamo anche... Mettiamo gli altri. Mettiamo Sofia... Ann... Ann... E Makoto. E Makoto. Ok, così salgono tutti più o meno... Ok, stesso livello. Allora, esplora. Eh, direi che non ci sono dubbi, sì. Eh, ma... Eccolo... 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 Ah, lì sono ombre forti... Eccolo... Eccolo... Va bene... Raggiungi il castello... Quindi devo andare di là... Affrontiamola, va... Qua... Siamo un po' stretto qua... Capisco niente, non vedo niente... Aiuto... E' stretto lui per combattere... Eh, la Madonna Sofia è... Per terra... Aspetta... Abbiamo lei... Due dei baller ghiaccio... Ehm... Perché c'avevo di ghiaccio lui... Aspetta... C'è tutto... Tutto... Abbiamo perso subito... Porca vacca... Cioè... Sono al nostro... Livello... Voglio dire... Aspetta... Facciamo subito così, va... Sto giro... Facciamo... Ok... Mi sa che qua per livellare... E' buono... Sto giro... Ok... Eh... Ho usato... Ok... Eh... Eh... Purtroppo con la storia... Ok... Mi sa che doveva perdere un po' di tempo qua... Nel livellamento... Comunque... Eh... Cosa c'è? Cosa c'è? Un po' di tempo... Un po' di tempo... Un po' di tempo... Ehm... Ehm... Un po' di tempo! Cosa c'è... Eh, sarà l'editore Vabbè, Jacko Lantern Io tengo Tengo Jacko Lantern Se usi il fuoco mi fai un favore Ahia Esatto, esattamente Esattamente Vabbè Ho preso Eh, ma no, Tarunda no Beh Che no, Tarunda sì in realtà Però Dai, dai, spada il fuoco Grazie Aspetta Aspetta Ahia Eh, Mizzega Cavolo Grazie Vediamo se ce la facciamo Aspetta Facciamo così Sì Eh, sì Comunque Aspetta Difesa Merda Allora, se la possiamo fare Però non devo cambiare Non devo cambiare personaggio Devo tenere Joker Con Jacko Lantern Aspetta Facciamo magari Così Facciamo così Ok Grazie Mizzega Quanto l'abbiamo tolto Tintissimo Aspetta Aspetta Eh no Vai Progressivo 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 Aspetta Eh, ok Dovevo essere più aggressivo Ok Ok ...ma dovevi... ...I 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 Eroi prescelti... 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 Check check point... Eroi prescelti... Eroi prescelti... Eroi prescelti... Eroi prescelti... Fetch quest... Cioè... Eroi prescelti... Eroi prescelti... Aia... Eroi prescelti... Aspetta... Eroi prescelti... Eroi prescelti... Oh, però... Eroi prescelti... Eroi prescelti... Eroi prescelti... Eroi prescelti... Andiamo... Eroi prescelti... Pixi... Eroi prescelti... Eroi prescelti... Eroi prescelti... Eroi prescelti... Eroi prescelti... Ah, ok... Eroi prescelti... Aspetta... Eroi prescelti... Eroi prescelti... Aspetta... Eroi prescelti... Eroi prescelti... Eroi prescelti... Eroi prescelti... Eroi prescelti... Eroi prescelti... Ma non si può... Non si può... Quindi... Non si può... Non si può... Aspetta... Allora... Dai che mi manca... Non si può... Eroi... C'è... L'unica soluzione... Eroi... Secondo me... Secondo me... Quindi... Eroi... Meglio... Per sicura... Ok... Eroi... Eroi... Basta... Una... Eroi... Guarda... Mi sa... Mi sa che è uno... Eroi... Eroi... Salvo... E poi... Eroi...